Wabalaba dab dab, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella playlist di DilanDog. Oggi parliamo insieme di DilanDog, sede regolare, 414 dal titolo Giochi Innocenti. Prima di cominciare vi ricordo sempre, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, condividete il video con tutte le persone che sono brave a fare qualcosa di inutile, tranne me perché lo sto già facendo io il video e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero. Iscrivetevi anche agli altri miei social per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio o non faccio, così per dire. Partiamo subito nel vivo della mia impressione a caldo di questo DilanDog, l'ho appena finito di leggere, devo dire che Paolo Barbato, che è l'autrice, la sceneggiatrice di questo numero, è forse, dopo Tiziano Sclavi, quella che ha saputo lavorare meglio su DilanDog, devo dire che anche stavolta ha fatto centro, i disegni, scusate se lo leggo, sono di Paolo Martinello e anche questi mi sono piaciuti davvero tanto, il DilanDog, questo DilanDog ha sia un sapore old, ma non nel senso negativo del termine, sia un sapore molto attuale, è un numero che riesce a concentrare tutto il bello di quello che era il vecchio DilanDog, parlo dei numeri, non dico i primi cento, ma comunque dei numeri vecchi di DilanDog, che sono piaciuti tanto e riesce a concentrare anche quello che dovrebbe essere DilanDog nella serie regolare, cioè qualcosa che prende un concetto, lo approfondisce, lo stravolge, ci fa andare in un mondo che non ci aspettavamo, ci fa andare in una gravità della situazione peggio di quella che supponevamo, ci fa pensare che le cose non siano soprannaturali, ma poi invece lo sono e poi lo sono ancora peggio, è davvero un numero che ti strizza il cervello. Mi è piaciuto davvero tanto, ma andiamo a vedere perché. È un numero che parte quasi lentamente, in cui vediamo una tranquilla domenica di follia con Dilan e Graucio che si fanno bellamente i cavoli loro a casa loro, squilla il cellulare che ci fa vedere come siamo tranquillamente nel DilanDog post-meteora, dove DilanDog non abborra l'uso della tecnologia, non gli fa schifo l'utilizzo del cellulare, però appunto in questo numero pare voler evitare semplicemente il messaggio perché è domenica e pare che sia un pochino superstizioso perché ha letto poi un messaggio che non gli è piaciuto molto, quindi diciamo che nasce un po' questo astio, c'è un po' uno strascico di astio di DilanDog verso la tecnologia, ma è un po' mitigato dal fatto che, come abbiamo visto appunto dalla saga 666, DilanDog comunque ha un suo cellulare, una sua mail, eccetera, eccetera. Quindi non è un boomer, non è restio all'uso della tecnologia, però c'è una strizzata d'occhio anche a questo. Graucio in questo numero è utilizzato, come sempre, come spesso accade, non è parte integrante della storia, ma non senza motivo. Il motivo è perché le luci, i riflettori di questo numero sono su un altro personaggio. Graucio, nonostante sia utilizzato come spalla comica dall'inizio alla fine, è comunque usato come si deve. Non è una macchietta che entra, fa una battuta di merda, scusate il francese, e se ne va, ma è un Graucio che c'è costantemente, che fa davvero l'assistente, che aiuta Dilan, è stato scritto magistralmente, riesce a essere fuori campo, a essere in un'altra scena, quindi a parlare con DilanDog solo al telefono, a fare l'assistente, a essere comunque la spalla comica, e in questo numero Graucio mi ha davvero finalmente fatto ridere, non sorridere con le sue battute, che per carità a me piacciono, ma proprio ridere in una scenetta comica, che è una cosa che capita spesso anche a tutti noi, ovvero quando si fanno delle ricerche su internet per informarsi, si teme sempre che appunto la polizia postale, l'FBI o che dir si voglia, leggano le nostre ricerche e pensano che siamo appunto dei serial killer, piuttosto che è quello che capita a Graucio. Ci fa ridere la cosa perché ci medesimiamo in quello che succede, ovviamente essendo una scena comica è stata portata all'eccesso, e come solo un film comico saprebbe fare, e persino il finale, l'epilogo di questa vicenda di Graucio, mi ha fatto ridere davvero tanto, quindi complimenti tantissimo a Paola Barbato per questo tocco di classe sull'utilizzo di un comprimario. ha saputo tenerlo lontano dalla trama principale, però risaltandolo comunque. È una cosa che non leggevo da tantissimo, quindi tanta roba, tanta roba. Dicevo, le luci della ribalta sono su un altro personaggio, che non è Dylan, ovviamente Dylan è il protagonista, ma sono su Rania, che la vediamo persino in copertina, come sempre alla copertina di Cavenago. Vediamo che è Rania la protagonista di questo numero, Paola Barbato riesce a farci finalmente apprezzare il personaggio di Rania. Rania che prima d'ora, sia dalla saga 666, ma anche prima, dalla saga 666 addirittura è un'ex moglie, quindi è un poliziotto di Scotland Yard, quindi rigido, personaggio rigido, che ce l'ha con Dylan Dogg, che è tutt'altro che rigido, quindi ha ancora più rigidità. È una persona alligia al dovere, con il velo che per quanto sia un simbolo di integrazione tipico di quello che c'è nella realtà attuale, londinese ma anche italiana, è anche simbolo di essere molto ligi, in questo caso alla propria religione, quindi al proprio dovere. Quindi Rania era tutto per tutto un personaggio in triplice rigidità. Finalmente vediamo... Però la rigidità purtroppo, per quanto non tutti i personaggi possono essere come Dylan, la rigidità non è sempre... non va sempre a braccetto con la simpatia dei lettori per quel personaggio. Adesso invece vediamo Rania diventare, in un certo senso, una ragazzaccia, come lei stessa dice. Dice che lo è sempre stata, che si sta finalmente sbottonando perché ha smesso di essere una poliziotta integerrima. e questa cosa, questo suo uscire dagli schemi, uscire dalle righe, uscire dalla sua rigidità, ci fa apprezzare il personaggio. Quindi Rania è finalmente entrata nella rosa dei comprimari che riusciamo ad apprezzare. inizia ad avere anche un look appunto da ragazzaccia, quindi col giubbotto di pelle, i jeans, la motocicletta. Ricorda un pochino Penny della gentile concorrenza di Samuel Stern, anche se qui abbiamo davvero a che fare con una badass, perché è comunque una poliziotta, quindi indaga, fa cose, non è semplicemente una spalla come è Penny per Samuel Stern, che è una semplice meccanica che può aiutare il protagonista. Qui invece Rania può fare molto di più di quello che fa Dylan Dog, essendo una poliziotta, può andare un po' più in giro liberamente a fare cose. Vediamo il carattere impulsivo di Rania che riesce a puntare subito una pistola in faccia a una persona appena sospetta che stia mentendo. Vediamo che la sua impulsività la accompagna fin da bambina, che l'ha portata ad avere una storia tragica in famiglia, per cui lei si sente in colpa, tutte cose che noi non conoscevamo, perché noi abbiamo sempre visto le cose dal punto di vista di Dylan Dog e Dylan Dog è abbastanza egocentrico da non interessarsi veramente alle persone attorno a lui. Tutti i personaggi sono ben centrati, quindi Rania ha davvero il focus di tutta la situazione, anche Dylan Dog non è un personaggio spaesato che vive gli eventi che lo trascinano come spesso accade in alcuni numeri, dà comunque un contributo reale, riesce a vedere le piccole cose con gli occhi del fanciullino, come viene citato anche qua nel numero di Dylan Dog, riesce a vedere magari cose che una persona come Rania non riescono a vedere, quindi si focalizza appunto sui corriandoli, sull'utilizzo di quello che fanno i bambini, riesce a trovare un filo conduttore, quindi una volta tanto anche il suo quinto senso e mezzo non è una botta de culo come succede di solito, ma è davvero un sesto senso che lo porta a vedere cose che una persona adulta non riesce a vedere. So che solitamente parlo dei disegni principalmente sul mio profilo Instagram, però ci tengo a parlarne anche qui perché davvero mi sono piaciuti molto i disegni, come vedete la trama, la griglia, è tranquillamente una griglia A6 che ha un sapore di old boy, ma dal nulla appaiono queste semi-splash page, dal nulla appaiono delle tavole fantastiche, al di là che anche le inquadrature trasversali mi piacciono tantissimo e poi ci sono appunto dei racconti in flashback a come piacciono a me, quindi non col bianco e nero ma con la scala dei grigi che fanno davvero percepire la nebbia, diciamo quello che potrebbe essere appunto un ricordo, per poi andare a finire su pagina, se non sbaglio pagina 70, 71, che è una vera e propria splash page che vi faccio vedere velocemente perché non voglio farvi troppo spoiler, che è un capolavoro, è disegnata in modo spettacolare, si sente proprio la, il peso di dove ci troviamo in questo momento, non c'è bisogno di da scalì e capiamo benissimo dove siamo arrivati, dove siamo finiti a pagina 71, quindi davvero tanta roba per Paolo Martinello, ha saputo disegnare benissimo quello che Paola Barbato voleva rendere nella sua sceneggiatura, un'opera che finalmente mi è piaciuta, finalmente Dylan Dock dovrebbe essere così sempre, francamente mi aspettavo che da qui iniziasse la famosa trama orizzontale di Madame Trekolsky, invece è un numero autoconclusivo, però tanta roba, devo dire che anche dal titolo Giochi Innocenti non avevo nessunissima hype, non avevo nessunissima aspettativa, invece il titolo tra l'altro è pure molto azzeccato, perché riesce a farci capire appunto da pagina 71 in poi perché è successa questa cosa, faccio spoiler adesso, faccio più spoiler del solito, quindi ok, se non volete avere sorprese, fermate un attimo. Da pagina 71 vediamo finalmente perché questi demoni rapiscono i bambini, vediamo come il gioco innocente di un bambino che non sa distinguere il bene e il male riesce appunto a essere più diciamo plasmato, plagiato da questi demoni, perché quella che prima era un'innocente corda ora sono le budella di un condannato, di un dannato, quindi vediamo come questi demoni riescono a allevare questi bambini innocenti facendogli fare cose terribili che però ai loro occhi non lo sono perché non sanno ancora, non hanno ancora subito traumi, sono bambini felici a differenza di quelli che non rapiscono e che quindi non hanno ancora conosciuto il bene e il male, proprio per questo riescono a essere plasmati verso il male. è un concetto davvero spaventoso se ci pensate bene. Se ci pensate bene non è il bambino che subisce anche nella vita reale non è il bambino che subisce il trauma a essere poi più cattivo spesso quando gioca con gli altri ma è il bambino appunto che non si rende conto del bene e del male a essere il bullo, a essere quello che fa qualcosa di cattivo perché non si rende conto della sua cattiveria. È un concetto davvero interessante portato ovviamente all'estremo portato nell'incubo di Dylan Dog finalmente come si deve e davvero non mi capitava da tanto tempo di apprezzare un numero in tutto e per tutto della serie regolare. Vi svelo un segreto quando a me piace così tanto il numero di Dylan Dog ho voglia di fare il cosplay di Dylan Dog ho voglia di vestirmi da Dylan Dog ed era da tanto che non mi capitava in un mio video di avere voglia di indossare la camicia rossa e la giacca ultimamente lo facevo davvero controvoglia lo facevo per continuity ma finalmente oggi questo numero mi ha risvegliato il piacere di interpretare questo fantastico protagonista che è stato spolverato finalmente dopo tanto spero che non sia un caso isolato però sappiamo che in Dylan Dog non c'è sempre la Barbato a disegnare non c'è sempre sclavi a disegnare scusate a sceneggiare non c'è sempre sclavi non c'è sempre la Barbato ci sono anche altri autori ci sono rimaneggiamenti dal curatore dall'editore per fittare per far stare la storia in questa continuity non sempre le cose vanno bene spero davvero che nel prossimo numero che si chiama Vindetta in maschera e ci sono sempre ancora dei ragazzi degli adolescenti magari mi sbaglio io chissà spero che le cose siano fatte comunque con questa grazia con questa grazia divina anche mi rivolgo anche a a Recchione mi rivolgo al curatore mi rivolgo agli editori questa è una formula funzionante per far funzionare Dylan Dog magari non per forza metterlo al centro dell'attenzione mettere al centro dell'attenzione magari un comprimario rendere questo comprimario davvero piacevole agli occhi di un pubblico che fino ad ora non lo aveva apprezzato usare Graucio in questo modo in questo modo sia utile che comico in quello che fa e non per forza nelle cagate che dice un utilizzo perfetto di tutti i comprimari grande assente l'ispettore Block però direi che a questo giro possiamo anche perdonare fatemi sapere cosa ne pensate voi fatemi sapere se sto delirando o se anche a voi è piaciuto scrivetemi qua sotto nei commenti ovviamente cosa ne pensate io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti